Dopo sei anni di commerce e più di centinaia di consulenze che ho fatto con voi appunto iscritti vi mostro quelli che sono i cinque errori principali che la maggior parte dei principianti fa in questo mondo e che potete risolvere con questo video in modo tale che farete milioni di vendite e diventate ricchi e andremo a vivere tutti sulla luna con Jeff Bezos e Elon Musk. Sono cinque errori banali ma allo stesso tempo avanzati che la maggior parte delle persone si scorda completamente di fare e ve lo spiego qua passo passo con degli esempi. Possiamo cominciare. Errore numero uno non punti abbastanza sulle creative e le grafiche questo è un trend che va appunto per tutti gli store e tutti gli store di successo io ho fatto anche un file ogni volta che trovo uno store di successo lo tengo e lo metto in un file appunto per spiarli in pratica e prendo ispirazione tutti gli store che fatturano tanto hanno sempre grafiche, foto, video soprattutto per le pubblicità fatti bene. Una cosa molto importante dovete adattare le grafiche, le foto o i video anche in base al vostro prodotto quindi se vendete per esempio un prodotto, un cosmetico, una crema come in questo caso non dovete fare per esempio i video come si applica la crema o guarda come è fatta la crema perché è una cosa abbastanza scontata cioè tutti sanno come è fatta la crema e come si applica una crema al viso quello che dovete pensare è ok quali dubbi potrebbero avere le persone in questo caso appunto sono il prima dopo quindi i risultati che dà la crema, le recensioni, gli ingredienti sono molto importanti e così via un altro esempio diverso appunto dai cosmetici sono per esempio i gioielli i gioielli in questo caso sono dei prodotti che devono essere visti appunto all'orecchio o in corpo e infatti le grafiche più importanti devono essere fatte appunto nell'orecchio è estremamente importante mostrare i prodotti in uso quindi fare delle foto in uso dovete sempre capire il prodotto che state vendendo e quali grafiche e foto potete fare ora i video fatti bene quali sono? ci ho fatto anche un video al riguardo lo scorso due video fa in pratica sul dropshipping in organico sono continui organici, sono quindi dei video fatti molto bene seguendo i trend amatoriali come in questo caso ma che non deve, dove tu non hai bisogno di studio, fotocamane professionali e così via ti basta un telefono, un appunto un'idea vincente e tu riesci a fare nella maggior parte dei casi video UJC si chiamano e funzionano perfettamente per iniziare vanno benissimo, ci sono dei siti dove tu puoi anche contattare influencer, the creator e farti fare questi video da creator o addirittura in un primo momento appunto farli tu stesso e questo è l'errore numero uno che io vedo la maggior parte dell'istro non ha abbastanza foto nella galleria o nello store per far capire appunto il prodotto, a cosa serve, come si usa e come funziona nella pratica ormai si vende con le foto, quindi l'80% del tuo store quando tu fai lo store e lo sforzo va fatto, va impiegato appunto nella creazione di grafiche, foto, video per lo sforzo errore numero due, non hai la giusta strategia di ottimizzazione dei profitti questo è importantissimo, ma anche una cosa un po' più avanzata vi spiego appunto meglio come funziona questo procedimento in pratica i soldi stanno nel back-end, che significa questa affermazione? quando si vende si ha un business e si hanno due modi di vendere nel front-end, quindi sarebbe i prodotti a vista quindi qua c'erano le pubblicità, ok? le pubblicità arrivano su un prodotto tu vendi questo prodotto, il prodotto numero uno ed è finita qui, questo sarebbe il front-end, ok? quindi io spendo 100 euro di pubblicità e se riesco, quindi se le mie pubblicità convertono abbastanza bene e se il mio store converte abbastanza bene perché il prodotto e il prezzo sono quelli giusti io riesco a farne tipo 250 ora, qual è il problema? è che nella maggior parte dei casi per il primo prodotto, a meno che andiamo a vedere prodotti digitali prodotti estremamente ticket non si vanno abbastanza margini per scalare, per crescere infinitamente e così via cosa succede molto quando si vendono corsi di mentor corsi per esempio online per esempio quelli per fare soldi, dropshipping e così via cioè tu non riesci a fare abbastanza soldi o se li fai, tipo ne fai tipo 20% 15% di margini non riesci a scalare perché arriva un punto in cui non riesci a scalare più quindi quello che si fa in pratica si fanno soldi nel back-end cosa significa? tu prendi 5 clienti, questi 5 clienti ti fanno andare a pari quindi non ci perdi nulla e questi qui 5 clienti poi li porti nel back-end con altri prodotti prodotto numero 2, prodotto numero 3, prodotto numero 1 fatto venduto di nuovo e così via questa volta tu riesci ad acquisire dei clienti a costo zero perché in pratica questi clienti già li ha acquisiti questo è un modo in pratica per permettere alle pubblicità di pagarsi da sole e tu non spendere soldi, essere sicuro che non ven perdite e così via ci sono 3 segreti per permettere appunto un processo del genere che accade il primo è di vendere prodotti belli, fighi perché se voi, se le persone arrivano e comprano questo prodotto e non si trovano bene con voi automaticamente non comprano di nuovo vi chiedono resi e di sicuro non comprano di nuovo altri prodotti da voi il secondo modo è vendere prodotti che finiscono e bisogna ricomprarli prendiamo questo esempio andare in profitto su un prodotto che costa 11,99 euro con delle pubblicità è quasi impossibile quindi io per acquisire un cliente per vendere questo prodotto spendo 20 euro quindi ci vado in perdita nel frontend per ora sto perdendo soldi sto perdendo 9 dollari, 9 euro in questo caso però siccome il mio prodotto so che è buono le persone poi si abbonano perché ogni mese poi lo comprono è una crema, finisce, le persone ne comprano sempre di un'altra e poi siccome ho un catalogo, appunto il secondo step le persone comprano altri dei prodotti e a poco a poco dopo il primo, secondo, terzo, quarto mese io comincio ad andare in profitto il quarto mese, il quinto mese che le persone comprano io non devo ripagare questi 20 euro di acquisizione cliente perché il cliente è già acquisito quindi in pratica faccio soldi automatici senza pensarci e il terzo modo oggi ho già anticipato ovviamente appunto vende tanti prodotti quindi io vendo questo prodotto, sì, una volta sola ci vado in perdita o comunque vado in break even quindi vado a pari e poi siccome il prodotto è bello le persone ne comprano di altri che vanno tipo comunque ammacciati insieme e comprano questo, comprano quest'altro faccio nuovi drop ho l'email marketing che mi fa fare appunto nuove vendite automaticamente o comunque tipo introducono i prodotti e quindi le persone compro automaticamente perché sono già fidelizzate questo è l'errore principale che fanno appunto gli store principianti che vendono prodotti in dropshipping banali che fanno schifo quindi le persone non ricomprono a te e soprattutto non hai altro materiale appunto d'offrire praticamente. Terzo errore non fai ricerca di mercato e non riesci a scrivere i giusti hook che significa gli hook? gli hook sarebbero il copy principale quindi le scritte o comunque anche la comunicazione gli angoli di marketing che prendono i tuoi clienti principalmente l'attenzione dei tuoi clienti quando io faccio le pubblicità c'è diversi modi di presentare un prodotto in pratica e questa cosa ce l'ho spiegata in tantissimi altri video in passato è che molte persone appunto non ci fanno caso perché pensano che sia una cosa banale cioè prendiamo questo prodotto che non so cosa sia tipo una cosa per pulire il viso quindi le creme quelle cleansing sarebbero per pulire il viso io posso vendere questo prodotto per esempio questo è il prodotto più è il prodotto migliore per chi ha il viso e la pelle delicata quindi compra questo tu che ha la pelle delicata compra questo prodotto e appunto non avrai più la pelle diciamo rovinata da queste creme questo è il primo angolo da vendere il secondo angolo sarebbe potrebbe essere per esempio per recensioni quindi questa di qua è il cleanser più rinomato e più recensito al mondo compralo subito perché appunto farei parte della nostra community il terzo motivo è questo è il cleanser più veloce nel mondo quindi lo compri e ti lavi la faccia in 5 secondi e contro degli altri che ci stai un minuto quindi fateci caso che per ogni prodotto ci sono diversi angoli di marketing diciamo per presentarlo e la cosa difficile appunto è capire quale di questi marketing quale di questi angoli si adatta di più alla tua audience dovete diciamo trovare una combinazione giusta quello che molte persone fanno appunto è pensano che un angolo di marketing cioè il modo in cui presentano il prodotto funzioni sin da subito in realtà non funziona e non è tanto le pubblicità lo store che non converte è semplicemente il modo in cui viene presentato il prodotto il quarto errore non riesce a far apparire il tuo store come un brand serio questo è dato da diversi motivi il primo appunto sono le grafiche le foto quando c'erano grafiche prese da Aliexpress riciclate o comunque non sono in HD quindi si vedono sgranate è un errore banalissimo che ti fa perdere un sacco di credibilità e la gente ormai sa che questi store sono comunque store farlocchi che vengono appunto prodotti in droppe che arrivano dopo 20 giorni 30 giorni il secondo errore che io vedo molto spesso fare sono temi gratis i temi gratis si vede che non sono professionali cioè un tema premium questi qua non sono temi premium sono temi personalizzati quindi quando uno store è così grande si fanno fare temi personalizzati prendo un designer un programmatore di Shopify mi fanno fare appunto un tema come lo voglio io per esempio avere un tema personalizzato in pratica in modo più veloce per apparire professionali è comunque anche una questione di branding secondo me io l'occhio è una questione molto di occhio io parlo di occhio non c'è tipo delle cose delle caratteristiche principali quando lo vedete che qua è tipo tutto organizzato quindi i colori il font che è sempre lo stesso se andessimo a vedere le pubblicità che loro fanno su Instagram o la comunicazione vi rendete conto che è molto simile a quale è lo store appena carica vedete tipo i colori il font la comunicazione che loro usano è sempre uguale in ogni parte in ogni diciamo tassero del fan la pubblicità sui profili Instagram sui social per gli influencer sullo store negli email marketing e così via questo ci fa capire in pratica c'è una ricerca dietro comunque c'è un team che lavora e comunque è costante con i colori col branding e così via e soprattutto poi c'è una caratteristica un po' più anche pratica per esempio non so le spedizioni veloci il supporto clienti se tu metti un supporto clienti con un numero di telefono o comunque con whatsapp quindi un supporto clienti molto professionale diciamo che in quel caso la fiducia ispiri più fiducia al tuo store molto spesso quando le persone non comprano sul tuo store è un problema di soldi di prezzo il prezzo è troppo alto però il secondo problema potrebbe essere di fiducia come appunto in questo caso non mi fido non tanto perché non mi fido del prodotto ma non mi fido dello store non mi speriscono il prodotto comunque fanno delle promesse di cui non mi fido arriva in cinque giorni ma io non ci credo che arrivi in cinque giorni oppure non c'è il pagamento in contrastegno non mi fido che mi arrivi al prodotto per esempio oppure infine la fiducia sul prodotto quindi non capisco il prodotto non mi fido del prodotto ah questo prodotto sì carino però secondo me questa crema non funziona non mi fido e qui appunto c'è una recensione grafiche foto belle che ti fanno aumentare la tua fiducia percepita e l'ultimo errore non riesce a creare uno store che converta tanto anche qui ho fatto nei prodotti digitali diciamo delle checklist che vi faccio vedere sarebbero queste tipo l'ecom checklist c'è checklist di mostrate avanzate queste di qua sono tutti caratteristiche che uno store deve avere per dire appunto che uno store converte bene in genere uno store che converte bene ha un tasso di conversione sopra il 2% sotto il 2% è molto difficile andare in profitto puoi vendere ci ho fatto anche un video al riguardo appunto in cui l'importanza è estremamente importante avere stores contenuti medie che convertono bene perché se no appunto non riesci a massimizzare le vendite e vendi ma non va in profitto praticamente e ci sono tantissime caratteristiche ovviamente che uno store deve avere non tutte per cominciare ma sempre le più importanti sono video e grafiche per il prodotto se io vendo appunto in questo caso ci sta avere tipo non so una figura facciale quindi proprio delle facce che esistono che ti fanno vedere il prodotto come funziona come in questo caso che sarebbero penso o recensioni o UGC quindi creator che tu paghi in pratica che li mandi il prodotto e così via questo è essenziale perché devo vedere nella vita reale appunto com'è com'è il prodotto molto spesso non compro perché non capisco il prodotto com'è la vita reale e un'altra cosa importantissima che è alla base di uno store che converte tanto è l'offerta quindi dovete capire anche come dovete mettere le vostre offerte nel modo giusto per esempio non so il vostro il vostro prezzo base è di 45 dollari come in questo caso dovete capire se ne compri due o se tipo c'è una ricarica in regalo quindi dovete dare degli incentivi dei bonus in più per aumentare il valore percepito pratica se io non compro non è tanto perché il prezzo è troppo alto ma perché il valore che io do al prodotto è troppo basso quindi secondo me non vale questi soldi se invece rifaccio diciamo l'offerta la ricreo dicendo ah guarda questo è già in offerta in più ti diamo diciamo delle cose un manuale un ebook un pdf e diciamo delle cose in più una pasta come in questo caso per esempio e c'è un'offerta speciale io compro molto più velocemente molto più volentieri perché c'è un valore percepito più alto questo di qua comunque è GetSmir che è un esempio bellissimo di store che converte molto bene appunto di facere che c'è un video dove ti fanno vedere appunto come funziona penso che questo di qua sia un video che non me lo fa cliccare prima o dopo fanno vedere quindi questo è quello che significa far capire quindi in questo caso quali sono i miei possibili dubbi come funziona come è la vita reale e che risultati posso avere con questo spazio con questo idropulsore in pratica e qui me lo fanno vedere come appunto funziona praticamente adesso vedo in iscrizione e c'è il mio corso gratis con più di 5 capitoli è tipo 12 ore di video gratis su come si fa e-commerce tutte le giornate a dicembre 2023 praticamente gratis non devi pagare nulla se ancora non sei iscritto c'è il link in iscrizione oppure vai su mattuticristina.it iscriviti metti mi piace e noi ci becchiamo al prossimo video adios e noi ci becchiamo e noi ci becchiamo e noi ci becchiamo e noi ci becchiamo